Musica Secondo noi che veniamo appunto al mondo della comunicazione la tendenza sempre più forte è quella di appunto il post digital, il figital è questo cercare di abbattere le barriere tra l'offline e l'online, cercare delle idee forti che possano partire in anticipo rispetto all'evento fisico e quindi partire nei device delle persone, continuare nell'evento, continuare nel post evento di nuovo sui social quindi la tendenza che vediamo è una circolarità proprio di questi contenuti di comunicazione l'evento diventa una tappa all'interno di un contesto molto più ampio che va molto oltre quello che si vede nella singola tappa, nella singola serata pensiamo che questa sia una tendenza che porterà soltanto bene ai brand che hanno veramente bisogno di essere percepiti a 360 gradi con una comunicazione davvero coerente in tutti i loro canali Grazie a tutti